Diffondi Libro Diffondi Libro Sì, assolutamente sì. Diciamo che prevalentemente è indirizzato a loro, anche se ho ricevuto molti commenti positivi anche dai genitori, soprattutto dalle mamme degli adolescenti che hanno detto che sono riusciti a imparare qualcosa in più, anche dei propri figli o comunque del loro mondo. Come nasce questo libro? Allora, devo dire che è nata in modo un po' curioso, nel senso che è nata leggendo i commenti che lettrici facevano ai classici romanzi rosa che si trovano in particolar modo online. Vedevo appunto questi commenti dove le ragazze si chiedevano come mai si trovano sempre un po' gli stessi protagonisti nei romanzi, quindi c'è sempre il classico cattivo ragazzo. La ragazza è lì che vuole essere protetta da questo cattivo ragazzo e ci chiedevano perché ci sono sempre loro e non ci sono magari delle persone più comuni. Perché alla fine noi quando usciamo di casa, andiamo a scuola, raramente ci troviamo questo bad boy ogni volta che fa il duro, che prova a conquistare i nostri cuori. E lì mi sono domandata come sarebbe effettivamente se tutti quei cliché romantici dovessero succedere nella nostra vita, quella vera. E lì sono nate tante cose molto divertenti. C'erano delle tappe al liceo che chiunque sognava di vivere, quindi questo è un po' il senso, no? Esatto, sì. Chi è l'autrice? Kay, Jay e Line? Questa è una delle domande più difficili. Diciamo che non saprei. Sono alla fine una ragazza molto semplice che è completamente, l'autrice è completamente diversa dalla persona che sono io. Io sono qualcuno che, come tutti, commette errori, impara e tutto quanto. L'autrice è quella che prende tutte queste tappe appunto della vita e le mette per il scritto. Diciamo che Kay Jay e Line è qualcuno che vuole attraverso i propri romanzi insegnare qualcosa, o perlomeno ci prova, insegnare che sia ai giovani o che sia anche a quelli un pochino più adulti, determinate cose a livello proprio sentimentale e emotivo, così come faccio anche su questo libro, che spero che arrivino appunto determinati insegnamenti o consigli. Kay Jay e Line, nella vita soltanto scrittrice? Sì, ci provo almeno. Tornando invece all'opera, che cosa significa scrivere una fan fiction? Allora, la fan fiction è un po' quella storia che prende dei personaggi, magari dei volti anche pubblici, che si conoscono, attori, cantanti. Si prendono semplicemente il volto, non sempre la persona e ci si crea una storia attorno. Diciamo che la fan fiction è così che nasce, quindi hai dei volti famosi e tutta una storia che ci si ricama attorno. Ovviamente di solito queste fan fiction appunto hanno il volto del bad boy per eccellenza e solitamente appunto sono storie molto romantiche, con una trama diciamo banale ma non in senso negativo. La scelta della protagonista, del carattere della protagonista? Diciamo che la protagonista è un po' rispecchia appunto l'adolescente che secondo me c'è adesso, quindi una ragazza forte, una di quelle che ha un carattere che non si fa mettere i piedi in testa. Io vedo che adesso le adolescenti, le ragazze sono molto intraprendenti e se la prendono la loro storia. non sono più come tempo fa, anche se magari sogni di avere quel ragazzo che appunto ti fa la corte, prova a conquistare il tuo cuore, adesso non sono più così. Lo sogni però te lo vai a prendere con l'amore se veramente ti interessa. Quindi la protagonista secondo me perlomeno rispecchia molto gli adolescenti che vedo adesso. Questa protagonista è una ragazza dei giorni nostri ed è appunto innamorata di questo bad boy che come dice lei poi comunque si prenderà e succede così secondo lei anche nella vita? Diciamo che come nel libro ovviamente senza anticipare nulla, anche nella vita vera questi bad boy hanno una bella facciata, nel senso che quello che noi vediamo non è quello che effettivamente loro sono. Quindi diciamo che non voglio anticipare troppo di quello che succede nel libro e non vorrei dire quel qualcosa in più. Però quello che succede nel libro che probabilmente è la cosa alla fine più importante di tutta quanta la storia ma è quello che secondo me succede realmente nella vita. Quindi sì, non voglio però andare oltre. Certo. E il messaggio quindi? Il messaggio è quello di non fermarsi all'apparenza. e quando si parla con qualcuno non bisogna solamente parlare e quindi andare lì e cercare di prendersi quello che si vuole ma fermarsi un attimo e ascoltare anche quello che questa persona ha da dire. E il messaggio comunque è anche raccontare il mondo degli adolescenti e delle loro emozioni interiori. Sì, sì. Che è una cosa molto delicata. Assolutamente. Vogliamo dare alcuni indirizzi per trovare il libro ma anche i suoi indirizzi social? Allora, il libro è possibile trovarlo in tutti gli store online che sia Amazon, Felpinelli, Mondadori. È possibile anche prenotarlo in tutte le edicole oltre che nelle librerie. Nei social invece mi potete trovare su Instagram che è sempre sotto il nick di kjaline.autor e principalmente sono lì, quello lì è il social che uso più spesso. Oppure c'è anche comunque l'Instagram di Cigno Nero che è la casa editrice che ha voluto pubblicare e darmi questo regalo perché secondo me è un regalo. KJ Line, come farsi amare da un bad boy, guida pratica per sopravvivere in una fan fiction. La casa editrice, come ha detto lei, è Cigno Nero, la collana è Prisma e il genere è un romanzo. Io la ringrazio. Grazie a lei. Sarà sicuramente piacevole leggere questo libro. Perché no? Grazie. Anche in spiaggia e capire un po' di più il mondo degli adolescenti. Grazie mille. Grazie a lei. Buona giornata. Grazie, buon lavoro. Grazie. Questa rubrica è offerta da Diffondi Libro, servizi editoriali professionale. Diffondi Libro è il nuovo servizio professionale per diffondere e proporre libri a tutti i media italiani. Per informazioni info-diffondilibro.it oppure redazione-diffondilibro.it Diffondi Libro.